Rieccoci ragazzi, benvenuti al mio nuovo live di The Walking Dead E siamo ripartiti da sto punto che abbiamo ammazzato lo zombie Quindi andiamo avanti Morto, mezzo morto Se spossasse Seguiamo la bambina La bambina è indemoniata Sbaglio c'è un... due persone, wow Cavolo Apri il cancello Minchia tutto pieno sanguinato Che cosa importa? Devo restare? Cosa? Non voglio dormire in la casa di bambina Ma non so se dovrei lasciare Ma cosa se i miei bambini vengano a casa? Non ti lascerò adesso Non ti lascerò Non ti lascerò Allora, andiamo a qualcosa di sicuro, che è vicino Ok? È una buona idea Tranquilla, baby Allora ci sono due persone che ci faccio andare in passaggio Perchè, non ti lascerò Non ti lascerò Non ti lascerò Allora, andiamo a casa Sean Green. Lee, questo è Clementine. Sono Chet. Non dovremmo essere in l'opera così. Come potremmo aiutarti a uscire il cammino, e prendere tu e tua figlia fuori da qui, e fuori da mia famiglia. Se dovrebbe essere più sicuro là. Non ho il padre. Sono... Bebisitta! È un bambino. È un bambino. Se tu sei il bebisitta. Allora, meno male. Vengo con te. Dai dai, Dio. Vediamo, vediamo. Vediamo, Dio. Davvero, domani, domani, domani. Ciò merdera. Sono stancati. Finchè l'uia. Non c'è nessuno. E il finale. Adesso non c'è metà, non c'è merdra. Andiamo. No, non c'è nessuno. Dove un lai paese. Dove un lontano. a propos di quelli non seguiamo la strada tanto ci sono i proti apposto comunque ragazzi oggi è il cumpleanno dei nonni è la festa dei nonni quindi fate gli auguri ai vostri nonni anche se lo metterò un po' tardi comunque oggi 2 ottobre 2012 è la festa dei nonni auguri nonni se mi sentite tanto non mi sentire troppo dopo esserci introdotti in questa casa di campagna di le country dobbiamo fare e mo che si fa? mangiamo le pannocchie è un po' di rughette non mi sentite quindi non mi sentite è il bambi c'è il bambino c'è il bambino c'è il bambino go see what I have grazie, che gentile comunque è intimità a intrigare il tuo gioco è veramente bello e fa... e fa parecchio, non fa male, parecchio mi stiamo introdendendo mi chiamo Lee è Lee bello con te, Lee sono Herschel Green e anche il stile cartone è veramente bello l'aspetto che adesso escono gli altri jump in the fifth runnin' from something just like everybody else what type of danger has the girl seen nothing bad no 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 it smells like letame manur manure just like that i haven't put my mother haha i missed my mom and dad I bet Quanto è da Savannah? Molto vicino. Oh, ok. Ecco, già questa canzone non mi piace tanto. Io amo il tuo figlio. Oh, manco ti sei steso per dormire. Mamma mia. Loading. Sì, è un poggio. E' un poggio. Ho, che c'era una piccola. Il loro è indietro che non ci ha per me. Non ci ha lavoro. E' un poggio. E' un poggio. C'è un poggio. Come un poggio. E' un poggio. E' che c'è un poggio. E' 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 un poggio. Che bello nome No chiede Ma che credo è perché è come schifo come un bag of hammers Ma che cosa? Ma che cosa? 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 No, la metà gli uomini Cosa? Cosa? Il fatto che c'è lì è il giro ? Ma è lì E? Cosa? Chiaisce Cosa? 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 Cos'è? Cosa? 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 sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break on the tractor cool duck and I will hop to it I can keep an eye on your little girl here on the porch we can visit hey there Kenny need any help no I think I got it it's cool you need any help what do you mean I mean and taking care of that little girl you know what you're doing you got kids your own I think I've got it handled okay long as I keep her safe think I'm doing all right with those things out there maybe sure that's enough but you got to ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up no keep that in mind how's your son doing good I think Kachi's got a sister up in Memphis we were coming back from visiting her we were in a gas station and some guy grabbed my boy I thought he was kidnapping I was on the fucker in about two seconds and drop Christ just lucky I was there we saw a lot of bodies before we stumbled upon herschels but we're a tough family Lee ain't nothing gonna phase us see ya see ya yeah 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 you know how to drive it sure don't I can give you a hell of a critique of the US farm bill though I'm good come on over Sean Sean's still working on that fence hey Lee need a hand that'd be great if you could cut those two byes to length that sure speed things up yeah yeah my dad doesn't know how bad it is no no he doesn't no he doesn't I saw a guy in Atlanta kill a kid a boy just shot him right in the face damn no shit damn he didn't even hesitate he just turned put the barrel of the gun right between the kids eyes and pull the trigger you don't see things like that it's not like in the movies no they don't fall like you think did you have to do it do what kill have you had to off one yet oh oh yeah i had to shoot one i could shoot one maybe if it were far away i'm just glad we're getting this fence built dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there how about yours how's your family my brother and parents are in naked hope no man i hope so too maybe it's not too bad there that's probably all i need cut for now thanks and sean thanks again for the ride no problem Lee couldn't leave you behind anyway when you see my dad around he might want some help in the barn we know where to go the small workers in a country factory hey boss you should know that if you weren't leaving with Kenny today i wouldn't stand for your lack of honesty last night i'm not sure i'd follow how'd you get out of atlanta on foot i headed south and hoofed it out of there that's a long walk this farm's a nice plot of land huh had you told me 20 years ago i'd still be doing this i would have told you that you were full of crap never was a plan having a place like this it was in the family and i guess so was i family's important it's all that matters do you agree with that was brought up too yes where's your family now parents wife girlfriend my parents are in making with my brother well i hope they're alright you bet but now you've got this little girl to take care of clementine is it you just stumbled up on her no yeah i was looking for help in her house hmm can i give you a piece of advice sure i don't know who you are or what you did but you better become a better liar and fast let's say things don't get better back in the cities or they get worse before they do you're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it and if those same people get to question your words you're gonna be in trouble so whoever you are and whatever you did keep it to your damn self but at least you have the common sense to listen to a man giving you advice and then you're going to help us to get some help and then you have the fake oh my god 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 Oh no! Oh no! Oh no! I got you! Let this tracker off of me! Please, help me! Please! I'm from the sky... Aaahhh! Nooo! I want to take it with me. I don't know that's what it's like with me. I just want to take it with me. I don't know that's why I can take it with me! get the fuck out of here sorry sorry your son is alive you don't get to be sorry and you you didn't even try to help I was worried about the boy Poteva girare e tirare un pugno Prendiamo la macchina e partiamo Andiamo, me lo sono guadagnato Un trattore Cargando Finita la benzo Beh, questo è lontano che stiamo andando E' lontano abbastanza Douglas, quello di profumo Allora, comunque è molto avvincente questo gioco, mi piace, mi piace E anche di paura, non troppo, come mi piacciono a me Invece Guarda Ehi, tu vedi? Tu vedi? Il trattore è fuori di gas C'è una zona Eccola qua Bravo, bravo C'è un trattore C'è un trattore Sì! Sì! Andiamo a andare, tira! Che lucro è quello? Manca quella della bici! Non è quella della bici... è quella della bici! È vero! Poi, abbiamo un bici con un cronone! Cosa c'è? Io devo fare lì! Eccola qua! Ma sì, questa cosa non me ricordo! Anche nel film c'era... che era... Che era una bici! Tu devi controllare queste persone! Carly e Clegg fuci fuci fuci! Non è vero, loro hanno fatto un rischio! Sì, abbiamo fatto! E noi apprezziamo! Siamo sottotitoli! Cosa c'era una bici! Uno di loro è stato giù! Non è stato giù! Non è stato giù! Noi siamo! Abbiamo di finire questo ora! Nel mio corpo morto, ci sono un po' di uno. Non! C'è un po' di uno! Non c'è un po' di uno! Non c'è un po' di uno! Non c'è un po' di uno! Abbiamo già visto questo! Abbiamo fatto una cosa che erano! Abbiamo lasciato qualcuno con un po' di uno! E tutti ci sono fatti! Chut up! Abbiamo di farlo! Oggi... ...scippi il cuore! Cosa faremo con questo che? Padre... ... è solo un bici! ... è... Lilli, I'll handle this! What's your heart, Dad? You need to calm down! We reason with him! With the bloody end of an axe handle, maybe! Nobody threatens my boy! Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything! Shut up, Lilli! And you, shut the fuck up! They will find us! And they will get in here! And none of this will fucking matter! But right now, we're about to be trapped in here with one of those things! What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten! Please stop this! It's upsetting him! Oh! I'm upsetting him! Upsetting is getting eaten alive! Dad! We'll get it! It's a big deal! It's Larry, right? Man, this is his son! Look her up, dumbass! I got a dumbass! You got a dumbass in here! Get your head, grass boy! We've all got people in here! We can figure this out without killing anybody! There's another way! Hey! Yeah! With a shovel! I'm gonna kill him, Jack! Just worry about Duck! Lee! Yeah? There's someone in there! It's just locked! Keys behind the counter! Probably! Hey! I'm not the bad guy here! I'm just looking out for my daughter! No! You're just the guy arguing for killing a kid! He's covered in muck! She'll find the bite! Watch! She won't! And if she does... The first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face! Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl! She'll turn fast! And then, there'll be three! It's a little boy! I think we can handle it! A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater! It's not gonna happen! It is! And we're tossing him out now! No! You don't touch that boy! You don't touch anybody! I've got a little girl I'm trying to protect in here too! You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though! Because it's me! Before anyone else is here! AHHHHH! No! 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 I got his side-off! No! Go 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 go! you ma donna ma donna you ska Oh, no, che il cazzo! Oh, no, non è così! Dovrei farlo, non so! No, sono qui! Oh, sì, che nemmeno cosa sta morendo. Non lo sentiamo più parlare. Oh, sì, che nemmeno. 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 Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì, che nemmeno. Oh, sì, che nemmeno. Oh, sì, che nemmeno. Oh, sì, che nemmeno. Ciao. Ciao.